Calcio e motori, una combinazione formidabile. Controllare un pallone e guidare un'auto sembrano due esercizi semplici, ma non è così. Power 11 vi aiuterà a capire tutti i rischi e i pericoli da evitare alla guida di un'auto. In ogni puntata, un simbolo dell'AS Roma sarà impegnato in prove di guida sicura, test di abilità, prontezza e sicurezza. Ad assistere i giallorossi durante i vari esercizi ci sarà Gabriele Tarquini. Power 11 è pronta ad accogliere il suo nuovo ospite, Alberto Aquilani. Sono veramente pronto e contento di fare questa esperienza. Gira, gira, veloce, 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 veloce. Adesso Alberto alziamo un po' il livello di difficoltà, facciamo una doppia schivata. Non oso immaginare cosa sia. Vai, subito, molla, molla, perfetto. Ti do 5 su 5. Grande, grazie. Bravo. Grande maestro. Il percorso cittadino nasconde sempre delle insidie. Siamo abituati, un po' quello che succede per strada. Perfetto. Io credo che l'ho fatto abbastanza bene, penso di essere stato bravo. Alberto, adesso ci divertiamo veramente. Ti porto a fare due o tre giri di pista con la mia macchina da corsa. Ah, quindi te però. Mi sembra pure troppo da corsa questa. Tarquini e Aquilani prendono posto sulla bellissima Hyundai i30 NTCR da 350 cavalli, dotata di cambio sequenziale. Com'è? Mamma del collo per due giri, pensa che ne fa 30 giri. Che figata però, mamma mia. Secondo me te ne rendi conto solo se stai qua dentro. Alberto, come ti è sembrata questa giornata? Bella. Bene. Spero che ti sia anche un po' divertito e speriamo di vederci presto. In bocca al lupo. Grazie mille. Ciao.